Che c'è? Che succede? Ma sto bene. Oh no. Qualcosa sembra strano. Per me è bellissima. Chi ha chi non va? Ha la sindrome di Down. Sì, ed è asiatico. Forse perché lo stiamo guardando al rovescio. Ecco qui, tesoro. Prendilo in braccio. No, no, non voglio toccarlo. Dovresti abbracciarlo e dirgli addio. Portatelo via. Ma che cazzo, cara? Non avevi detto che era mio? Ho scopato con Timmy Wong tanto quanto ho scopato con te. Non ho mai detto che era tuo figlio. Sei tu che volevi pensarlo.